Il modello di Quintiliano. Marco Fabio Quintiliano è stato un avvocato e retore vissuto nel primo secolo dopo Cristo, poco dopo Seneca diciamo, ed è autore del primo grande trattato latino di pedagogia, l'instituzio oratoria, formazione dell'oratore. Sotto Nerone la libertà di espressione era stata notevolmente limitata e quindi l'oratoria si era progressivamente svuotata di contenuti. Dopo la morte di Nerone nel 68 d.C. si succedettero cinque imperatori nell'arco di due anni, fino all'elezione di Vespasiano che riportò l'equilibrio politico, economico e sociale nell'impero. Ovviamente l'assenza di grandi contrasti politici non favorì l'arte oratoria, anzi la ridusse a una forma di semplice esercitazione scolastica, una sorta di dimostrazione di abilità ma senza contenuti. Forse proprio per questo Quintiliano volle impegnarsi per rendere nuovamente viva la tradizione ciceroniana e quindi riaffermare il significato profondo politico e morale dell'oratoria. Quintiliano quindi presentò la figura dell'oratore come cittadino giusto, eccellente nell'uso della parola e capace di utilizzarla per il bene della comunità. Nell'istituzio oratoria Quintiliano indica negli educatori e nei formatori un cruciale fattore per la realizzazione del modello pedagogico. Quintiliano nell'istituzio oratoria ammonisce i familiari, soprattutto i padri perché erano quelli che avevano la responsabilità dell'educazione dei figli, li ammonisce affinché curino l'educazione dei figli con grande impegno, senza indugio e con un'attenzione, uno sguardo vigile ai loro bisogni. Ammonisce inoltre gli insegnanti perché li esorta affinché affrontino il loro compito con particolare attenzione alle effettive risorse intellettive degli allievi. Vedete come questa attenzione alla specificità dell'allievo è molto moderna. Possiamo dire che per molti versi Quintiliano anticipa tematiche che sono proprie della nostra attualità, che potete riconoscere nella scuola, nelle dinamiche della società contemporanea. L'esigenza per esempio di individualizzare l'educazione, di preparare un percorso specifico per ciascun alunno. La figura di educatore ideata, delineata da Quintiliano si modella su un ideale di autorevolezza. A che scopo? Qual è lo scopo dell'autorevolezza? È quello di raggiungere i migliori risultati di apprendimento facendo leva sulla relazione umana con l'allievo. Ora è molto importante, lo rivediamo anche dopo, distinguere tra autoritarismo e autorevolezza e su questo vi esorterei anche, vi incoraggerei a fare una ricerca, una riflessione personale. Le responsabilità educative, secondo Quintiliano, non devono apparire agli adulti, ai maestri, ai genitori come dei doveri gravosi, opprimenti, pesanti, ma devono essere accolte come compiti piacevoli da assolvere nella consapevolezza delle proprie capacità educative e delle capacità di apprendimento degli allievi, quindi con entusiasmo, con gioia, con un atteggiamento positivo. Nell'istituzio oratoria è illustrato anche l'ideale latino di humanitas, che però Quintiliano reinterpreta in maniera innovativa, infatti lo arricchisce di significati, appunto, moderni, come ho detto prima. Intanto, che cosa individua Quintiliano nella pedagogia? Egli sostiene l'educabilità di tutti gli esseri umani. È molto interessante questa questa idea e decisamente non è ovvia e scontata, come può apparire oggi, perché all'epoca di Quintiliano l'opinione più diffusa era che alcuni nascessero dotati dal punto di vista dell'intelletto, dell'ingegno, e che soltanto per loro valesse la pena intraprendere un percorso formativo, mentre invece Quintiliano sostiene che tutti abbiano la possibilità di trarre vantaggio dall'educazione. E effettivamente questa affermazione dell'educabilità di tutti gli esseri umani è un po' alla base di quello che al giorno d'oggi è il diritto di ogni individuo a ricevere un'istruzione, che è uno dei principi riconosciuti in tutti i paesi occidentali. Un altro dei nuovi principi affermati da Quintiliano è l'importanza di assecondare le inclinazioni naturali degli allievi. Egli infatti ritiene che ogni individuo abbia un modo diverso di imparare. Oh, quanto è moderna questa affermazione? Cioè, se è vero che tutti gli esseri umani sono per natura predisposti ad apprendere, tuttavia ciascuno apprende in un modo diverso. E ecco appunto, ritorno al discorso sull'insegnamento individualizzato che era stato, insomma, in un certo senso anticipato da Quintiliano, dalle riflessioni di Quintiliano. Quintiliano invita ad avere fiducia nell'attività educativa. E gli invita a credere nel valore dell'educazione. Perché sostiene che, appunto, credere nella necessità e nella validità dell'educazione, per lo sviluppo e per la piena realizzazione di tutte le facoltà umane, sia il primo passo per agire efficacemente e per disporsi in modo positivo alla riflessione sui problemi educativi. Egli inoltre espone una sorta di metodo di insegnamento e descrive la figura del maestro in termini decisamente moderni. Egli descrive, per esempio, l'insegnante come qualcuno che deve avere non solo una solida preparazione culturale, ma anche una spiccata sensibilità psicologica. E questo è significativo perché, appunto, Quintiliano ritiene che la sensibilità psicologica sia proprio quello che permette all'educatore, al maestro, di essere autorevole e non autoritario. Cioè, appunto, capace di imporsi quando la situazione lo richiede, ma anche di comprendere le ragioni degli allievi. E questo è decisamente un'indicazione che sarebbe valida anche al giorno d'oggi. quindi, Quintiliano ha delineato una sorta di codice di condotta dell'insegnante ideale. Quintiliano, inoltre, è decisamente moderno anche per il fatto di concepire l'istruzione come esperienza piacevole. Afferma, per esempio, che prima dei sette anni l'educazione debba avvalersi soprattutto del gioco. Ma anche successivamente l'educazione e l'istruzione devono garantire all'allievo soddisfazione, desiderio gioioso di nuove scoperte e apprendimenti. Un altro aspetto che ci permette di descrivere la pedagogia di Quintiliano, il modello di Quintiliano come decisamente moderno, attuale, è l'idea della formazione come esigenza che permane lungo tutto il corso della vita. Oggi parliamo di lifelong learning, lifelong learning. Ecco, questo è il continuo aggiornamento, l'esigenza di formarsi, di apprendere cose nuove per tutta la vita, lungo tutto il corso della vita e non la formazione riservata alla prima fase della vita e poi si è professionisti e si vive di rendita. No, continuare a formarsi, continuare a sentire l'esigenza di crescere, di apprendere, di migliorare.